Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, la nostra trasmissione in diretta, apriamo subito con una cosa che ci arriva da una nostra ascoltatrice, telespettatrice affezionatissima, Rita, che salutiamo tra l'altro, e che ci ha mandato un messaggio per ricordarci, ma qualche appunto ce l'eravamo già preso, che proprio in questo momento 10.02 è l'ora esatta della perpendicolarità dei raggi del sole sul tropico del Capicorno, il punto più a sud, il sostizio perfetto nell'emisfero nord, sostizio d'inverno, ma a sud, sostizio d'estate, in Antartide comincia lungo giorno, sole a mezzanotte, commenta Rita entusiasmante, eppure così naturale, abbiamo aperto con questa cosa proprio in diretta, nel senso che siamo in diretta e in questo momento succedeva questa cosa, oggi è il 21 dicembre, mancano 10 giorni alla fine dell'anno ed è appunto il primo giorno dell'inverno, il sostizio d'inverno. Secondo il nostro librone personologi è il giorno del grande enigma, oggi è il giorno più corto, oppure la notte più lunga, scegliete voi, dell'anno, non cade tutti gli anni lo stesso giorno e soprattutto mai alla stessa ora, invece quest'anno alle 10.02. Ricordiamo che la leggenda invece vuole che il giorno più corto dell'anno sia Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia c'è anche il modo di dire, però tutto questo succedeva prima della riforma del calendario voluta da Papa Gregorio XIII nel 1582, visto che da oltre dieci secoli si erano accumulati circa dieci giorni di sfasatura, nel momento in cui hanno riorganizzato il calendario gregoriano, che è quello che noi seguiamo, il sostizio è stato spostato appunto dal 13 al 21 dicembre. In questa giornata Aston Henge, che è il celebre sito archeologico preistorico a sud di Londra e che è perfettamente allineato nei giorni dei sostizi e all'alba il sole entra esattamente dalla porta principale. Chi ne vuol sapere di più su tutto questo che riguarda il sostizio trova un sacco di informazioni sul web, tra cui il sito greenme.it, sette cose da sapere sul sostizio, ci sono veramente delle curiosità, vi invito ad andarle a scoprire. Oggi si celebra San Pietro Canisio, sacerdote della Compagnia di Gesù e dottore della Chiesa, vissuto nel 1500, è stato il primo gesuita della provincia germanica. Andiamo con qualche evento storico appunto del 21 dicembre, nel 1891 viene giocata la prima partita di palla canestro, vedete che c'è proprio il canestro, vedete nella foto, nasce a Springfield, che però non è quella dei Simpson, perché è stato scelto questo nome nel cartone dei Simpson, proprio perché è una città che ha ben 71 città in America, in 36 stati diversi si chiamano così. Nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico e insegnante, lo vediamo qui col pallone e con il cesto, di educazione fisica canadese. Lo stesso giorno fu giocata la prima partita, questo è il first team nel quale c'è anche il professor James Naismith, questa partita, la prima partita di pallacanestro della storia è finita 1-0, che tra l'altro fa anche abbastanza ridere, visto i punteggi che vengono raggiunti oggi. Nel 1898, Marie Curie, che nel 1903 poi ha condiviso col marito e con Antoine Herry Becquerel il premio Nobel per la fisica e nel 1911 ha vinto quello per la chimica, unica persona ad aver vinto il Nobel in due discipline diverse, il marito Pierre scoprono il radio. Si racconta, a proposito di Marie, che ha un giornalista che le chiese come ci si sentisse ad aver sposato un genio. Lei ha risposto, non lo so, chiedetelo a mio marito. E' una risposta folgorante e fantastica. Nel 1913 il World Cross, cioè il cruciverba di Arthur Wine, primo cruciverba mai realizzato, viene pubblicato sul New York World, un quotidiano statunitense che poi era stato pubblicato tra il 1860 e il 1931. Nel 1883 questo quotidiano, curiosità, era stato acquistato dal giornalista di origine ungherese, Joseph Pulitzer, quello a cui poi è stato intitolato alla morte il famoso premio Pulitzer su sua decisione, su sua richiesta. Nel 1937 l'anteprima di Biancaneve e i sette nani. Al Cartier Circle Theater di Hollywood debutta questo cartone animato Snow White and the Seven Dwarfs. Biancaneve appunto e i sette nani, cartone animato che pensate a tutta questa bellezza di tanti anni, questi sono i sette nani che vanno al lavoro con la canzone EI HO EI HO, nessuno se la può dimenticare. Tutto a origine in questo 21 dicembre 1937. Voglio anche, prima di dare spazio alla nostra prima ospite, ricordare che domani sera alle 21.15 faremo una puntata speciale, una diretta speciale, durante la quale conoscerete, avrete la possibilità di conoscere meglio i protagonisti di Rossini TV. Ripercorreremo i fatti più importanti del 2020, parleremo di tante cose, visiteremo la redazione, ci faremo gli auguri di buone feste, oltre che ricordare i tre anni di vita della nostra TV che in un così breve tempo ha fatto passi da gigante. In più sorprese, canzoni di Natale, insomma una vera e propria festa, non mancate, è ancora un'occasione di diretta domani sera alle 21.15. A questo punto, dopo questa introduzione leggermente più lunga del solito, ma pochissimo, siamo a un minuto al massimo, accogliamo con un applauso virtuale la nostra prima ospite, Chiara Lodovici. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie Paolo. Chiara torna con noi dopo una puntata di qualche settimana fa nella quale ci aveva raccontato un po' tutto quello che faceva con la sua associazione, ma perlomeno tutto quello che faceva, e poi ha fatto un accenno all'associazione. Siccome eravamo rimasti sospesi sull'associazione, ci siamo voluti tornare. Però prima ti voglio dire una cosa, anche a te ti voglio dare una curiosità. Dimmi, dimmi. Tu lo sai che Santa Chiara è la protettrice della televisione? Questo mi mancava. Vedi? Santa Chiara è la protettrice della televisione, per una cosa anche molto curiosa, tra l'altro, perché siccome lei era in clausura, si narra che non poté partecipare ai funerali, alle celebrazioni personale di San Francesco, ma li vide proiettati sul muro attraverso una specie di foro stenopeico, che è questo buchetto, sai, le prime macchine fotografie, per cui si narra, va a capire, insomma, è passato qualche anno. Però da quel momento in poi Chiara, Santa Chiara, è diventata la protettrice della televisione, per cui bisogna che te vieni più spesso, insomma. Va benissimo, io sono contenta. Ci devi proteggere, ci devi proteggere. Allora, Chiara Rodovici, laureata in psicologia, diplomata in counseling, formatrice, esperta in tecniche di riequilibrio psicofisico e olistiche e soprattutto oggi è qui perché è presidente dell'associazione Il Sentiero dell'Anima. Esatto. Che cos'è questa associazione, Chiara? Che cos'è? Allora, questa associazione nasce nel 2012 e fine 2012, con l'intento di essere un luogo dove le persone possono venire per imparare ad amare loro stesse, se stesse, quindi imparare a prendersi cura di se stessi, amarsi e accettarsi per quello che sono. All'interno dell'associazione Il Sentiero dell'Anima ci sono tantissime attività. Oltre a quelle che faccio io ci sono anche una serie di professionisti che ruotano, chiaramente, che entrano e che propongono i loro corsi e percorsi proprio di aiuto e supporto alle persone. prevalentemente è un aiutare a 360 gradi, quindi come dico sempre io, a tutti i livelli dell'essere, che sia il fisico, che sia l'emotivo, che sia il mentale, ma anche l'energetico, che non è la parte spirituale, quindi diciamo la parte spirituale che conosciamo collegata alla Chiesa, è la parte energetica che ognuno di noi ha, quindi qui possiamo aprire, chi è curioso andare a vedere la fisica quantistica, quelle che sono le, diciamo, la teoria della fisica quantistica e ci sono tantissime tecniche che vengono utilizzate all'interno, quindi l'obiettivo è proprio quello, insomma, di agitare. Chi si avvicina a una situazione come quella, come quelle proposte dal sentiero dell'anima? Le persone sono svariate, quindi ci sono anche molti giovani e questa è una cosa molto bella perché poi a me lavorare con i giovani piace tantissimo e diciamo che partiamo dai, a volte anche dai 20 anni in su, quindi prende diverse fasce di età e generalmente sono persone, se parliamo dei giovani, possono essere persone che hanno bisogno di conoscere loro stessi anche nella parte più fragile, nella parte più delicata che hanno, quindi prendere coscienza di questo e imparare ad amare anche quella parte, mentre se andiamo in persone più grandi possono esserci problemi di autostima, di comunicazione o relazione, quindi anche qua le tipologie sono tante, le fasce di età idem e gli argomenti ugualmente, insomma, che si possono trattare e sono tanti. Ma in questa varietà riesci a organizzare, a strutturare anche delle situazioni collettive oppure è sempre necessario un approccio individuale? Entrambi, esattamente, quindi c'è un approccio individuale con alcuni, in particolare i trattamenti che vengono fatti, i trattamenti di riequilibrio psicofisico che possono essere svariati, poi magari qualcuno te ne accenno dopo, ci possono essere anche esattamente delle situazioni collettive, quindi dei gruppi che non sono assolutamente gruppi terapeutici, sono, chiamiamoli, gruppi di crescita personale. All'interno di questi percorsi di gruppo le persone fanno un'esperienza comune, su delle tematiche che ci appartengono a tutti in qualche modo, quindi non si sentono soli, si sentono parte di un insieme, di una comunità, diciamo, tra virgolette comunità, inteso che c'è una comunione di intenti e in questi percorsi di crescita personale si può andare da lavorare su se stessi, per esempio c'è un corso, un percorso che ho chiamato Innamorati di te e che ho presentato, presentai anche all'Università dell'Età Libera ed è un percorso appunto che serve a imparare a conoscersi, ad amarsi, ci possono essere anche percorsi più strutturati, quindi sulle emozioni, sulle ferite dell'anima, sulla comunicazione, l'autostima, ce ne sono di diversi. Ricordiamo ai nostri telespettatori che noi siamo in diretta in questo momento con Chiara, a meno che voi non ci stiate seguendo in una delle numerose repliche, se in questo momento vedete in basso l'orologio che indica 10 e 13 è perché siamo in diretta, altrimenti appare una scritta con scritto replica. Siccome però in questo momento siamo in diretta e dall'altra parte dello schermo vedete il contatto, se volete provare delle domande a Chiara potete inviarci un messaggio whatsapp al 351 708 9977 oppure una mail a casarossini, chiocciolarossinitv.it, noi siamo qui apposta e poi vedremo anche come rispondere, insomma perché è una bella sfida quella della diretta. Certo, assolutamente. Insomma, dai, ti ho lanciato un bel rischio diciamo, però ce lo prendiamo. Ce lo prendiamo volentieri. Allora, preferisci prima passare alla descrizione delle tecniche o facciamo quel discorso su quell'azienda di cui mi hai parlato? Giusto, giusto. Facciamo, apriamo esattamente anche questa piccola postilla perché ci tengo molto, proprio perché sono, diciamo, orientata a quello che è il benessere delle persone. Inserito all'interno di questo percorso del sentiero dell'anima ho intrapreso una collaborazione con un'azienda che si occupa di nutraceutica e di fitoterapia, quindi integrazione naturale, proprio allo scopo preventivo, perché sappiamo che l'integrazione ha uno scopo prevalentemente preventivo, di aiuto e supporto anche qui nella parte fisica, ma anche nella parte emotiva e mentale per chi è particolarmente stanco, stressato, problemi di insonnia, ce ne sono tantissime di situazioni e in particolar modo sono contenta perché questa azienda mi ha contattato per diventare poi ambasciatrice, quindi è un ruolo importante perché è un po' un portavoce di questa realtà e sono all'interno anche la formatrice dell'azienda, quindi la coach aziendale, questa per me è una cosa molto bella e si crea anche qui un sentirsi parte di una famiglia, tutti orientati ad aiutare comunque le persone, perché al giorno d'oggi è vero che le medicine non si possono sostituire per la maggior parte delle cose, però se possiamo prestare un pochettino più di attenzione anche a delle cose naturali, di ritornare un po' alla naturalezza, comunque alla natura, penso che sia una bella cosa, soprattutto ripeto a scopo preventivo, perché poi anche nella mia attività spesso utilizzo i fiori di bac, gli oli essenziali, quindi cose che vanno, ecco ripeto, nella natura. Ecco, quindi questa è una cosa. Conosco bene i fiori di bac che mi hanno aiutato in un periodo molto difficile della mia vita attraverso tua madre che voglio salutare, Teresa, e molto spesso, le poche volte che ne parlavo con qualcuno, c'era questa specie di reticenza oppure di prese in giro, no? Ah figurati acqua colorata, eccetera, no? E io ho sempre detto questo, no? Allora i casi sono due. O è acqua colorata o no. Se non è acqua colorata, prendiamola col dovuto rispetto, ma se anche fosse acqua colorata che mi fa guarire, fa schifo a qualcuno guarire venendo l'acqua colorata invece che buttando dentro qualcos'altro, cioè, no, magari, cioè se tutto, il famoso effetto placebo, se tutto si potesse guarire con l'effetto placebo, noi avremmo risolto tutti i problemi, perché sarebbe una meraviglia. Beh, hai detto una cosa anche importante, quindi al di là del fatto, ripeto, che ci sono delle situazioni fisiche che comunque, diciamo, non si può, ci si può esimere dal prendere delle medicine o fare delle cure, chiaramente, però molto parte spesso dalla testa, quindi ci sono anche delle situazioni che possono essere migliorate con l'ausilio di tecniche naturali, ecco, quindi anche un'integrazione naturale, anche all'interno di questa azienda, abbiamo per esempio, per la parte di stress, per la parte di chi soffre di ansia, per l'insonnia, quindi sono situazioni che invece di ricorrere subito a sonniferi o quant'altro, proviamo, perché poi la testa, se io so di prendere qualche cosa, come dici tu, è l'effetto placebo, risolvono e mi dà quella calma e quella tranquillità per poter procedere. Io l'ho sempre pensata così, voglio dire, se possiamo risolverlo qualche settimana fa, qualche giorno fa, è stato qui con noi il titolare dell'arte del riposo, Giovanni Arduini, che mi parlava dell'effetto di un buon materasso, eccetera, ma se possiamo risolvere in tutti questi modi, perché no? Sempre fermo restando che ci sono situazioni che non si risolvono invece così e bisogna fare ricorso ad altre cose. Niente fa bene, niente fa male. Esattamente, è tutto per me, è tutta una sinergia di situazioni, quindi creare una sinergia, una comunione di elementi, di fattori, quindi anche all'interno infatti di questi prodotti, gli estratti sono stati studiati in modo tale da avere una potenza tale da dare degli effetti benefici, quindi io per prima, poi prima di entrare in certe realtà, amo testare determinate cose ed effettivamente ho avuto dei risultati molto molto importanti, e quindi perché no? E con questa azienda tu hai questa collaborazione stabile e sei parte dell'azienda, di conseguenza utilizzi i loro prodotti. Esatto, esattamente, sì, sì. Diventi un promotore, ma un promotore con parte in causa. Sì, esatto. Io poi più che altro la cosa che faccio è chiaramente proporre un aiuto a chi comunque si rivolge a me e allo stesso tempo poi sono di aiuto a tutto il team delle persone che sono all'interno, perché è importante, è chiaro che se andiamo a proporre delle cose per far star bene le persone, è sicuramente importante anche avere una propria serenità interiore e un approccio adeguato, quindi anche la parte psicologica è importante. Certo. Prima di entrare nelle tecniche volevo farti una domanda che mi è venuta mentre ti ascoltavo. Naturalmente siamo in qualche modo tutti in mezzo alla tempesta ancora, per cui questa cosa qua già dall'inizio aveva dato la percezione che avrebbe avuto degli effetti, dei risvolti, delle conseguenze psicologiche e non solo abbastanza importanti. Ormai ci siamo quasi abituati all'idea che in questo momento siamo sballottati dalla tempesta, st'estate speravamo tutti che fosse finita, poi invece con l'autunno è ricominciata. E sicuramente questa assuefazione, se vogliamo, all'idea non è una guarigione dalla preoccupazione. A te arrivano testimonianze dirette, richieste anche su questo? Le persone sono molto impaurite, purtroppo a causa della paura e spesso in questo momento invece le richieste possono essere di più ma possono essere anche di meno. Quindi è un boomerang che può tornare indietro, perché ci sono innanzitutto delle persone che hanno delle difficoltà economiche e quindi non si possono permettere di fare corsi per corsi che sia anche per il loro benessere, perché sappiamo bene la situazione economica qual è. Ci sono persone che hanno una certa età e quindi sono impauriti, pur mantenendo che possono essere le distanze e la mascherina, però sono impaurite e quindi preferiscono aspettare momenti migliori. È un saldi e scendi, quindi sicuramente ci sono persone che si presentano per stare meglio perché l'ansia e la paura è tanta, altre che preferiscono aspettare momenti migliori. E in questo momento è, ripeto, molto sui giorni. Quelli con cui hai la possibilità di affrontare il tema sono più impauriti dal rischio di prendere il virus oppure dalla situazione, cioè qual è la cosa che mette più paura in questo momento? Prevalentemente il proprio equilibrio emotivo, quindi più che prendere il virus, quello, ripeto, è più magari per una fascia di età, è più proprio un avere timore perché si sentono in confusione, non si sentono in equilibrio. Ecco, questa cosa li ha destabilizzati. La paura di non tornare più come prima, in generale, ma anche con loro stessi perché situazioni così pesanti e forti come stiamo vivendo vanno a mettere in discussione anche chi siamo, cosa sentiamo, cosa facciamo e come se si aprissero dei vasi, i vasi di Pandora e in momenti pesanti così venisse fuori tutto quello che noi abbiamo represso nel tempo. quindi ferite, preoccupazioni. Il pentolone aveva il coperchio e il coperchio è saltato. È saltato, sì, perché unitamente, anche al momento che le nostre cose individuali più le cose collettive, tutto insieme ha fatto sì che la cosa esplodesse. Questo sì. Però aiutarsi... Allora, senti, a questo punto tu hai mandato alla regia un po' di immagini per dare un po' di indicazioni su quello che sono le terapie, i trattamenti e tutto quello che si può fare. Allora, adesso la regia ce le fa vedere una alla volta e tu le commenti. Benissimo. Allora, questo è il trattamento di Reiki. Reiki è una tecnica, una disciplina nata in Giappone e da Mikao Usui, quindi è molto antica come disciplina e lo scopo è quello di aiutare attraverso delle posizioni delle mani sul corpo della persona, quindi prevalentemente i chakra, i centri energetici che abbiamo, a ritornare in equilibrio, quindi in asse psicofisico, aiutarlo a tutti i livelli dell'essere, come ho detto prima, fisico, emotivo, mentale, ma anche energetico. E attraverso delle tecniche e attraverso i seminari, l'operatore, in questo caso come si vede nella foto, che sono io, diventa come un tramite e un canale di passaggio di frequenze di energia pulita per la persona, quindi non sono io che do la mia energia alla persona, ma ecco divento un canale, un tramite, perché chiaramente dice, la persona che è sotto dice ascolta, ho già i miei problemi, se mi dai anche i tuoi forse è meglio di no, no? Quindi ecco, con chiaramente dei seminari, delle tecniche ben precise, si impara a diventare un canale. Poi dopo, chiaro che non posso entrare troppo nel dettaglio, perché sennò ci vorrebbe non 20 minuti, mezz'ora, ma due ore. Però ecco, l'obiettivo è quello di aiutare la persona a ritrovare un benessere, quindi la persona si può sentire meno stanca, meno affaticata mentalmente, emotivamente, fisicamente, dorme meglio, ecco, quindi va a migliorare tutto l'asse, insomma. Vediamo qualcos'altro. Esatto, qua c'è l'uso dei cristalli, perché all'interno di alcuni trattamenti io utilizzo anche i cristalli, perché la cristalloterapia, sappiamo che io non ho fatto, non sono cristalloterapeuta, ma ho studiato l'uso dei cristalli per i chakra, quindi questi chakra, che sono questi nostri sette centri energetici, che scorrono lungo l'asse vertebrale. E unitamente poi all'uso dei cristalli che vengono messi appositamente, sopra, nel corpo della persona, poi c'è l'oxilofono, vediamo che è questo piccolo strumento che fa un suono molto acuto che va a riequilibrare con questo suono i nostri chakra. Una persona, stavo pensando, che è lì, che ti fa da modello in qualche modo, starà benissimo questo punto. Lei dice chiaro, io quando faccio sono rilassata. È il top, perché l'hai fatto tutto, per cui benissimo. Allora andiamo avanti. Poi abbiamo gli oli essenziali, perché utilizzo anche gli oli essenziali nei trattamenti, in questo caso, quindi anche qua, possono essere messi nei chakra, nei centri energetici, quindi sono tutti sempre studiati per andare a riequilibrare questi punti, e altrimenti faccio anche il trattamento Aroma Touch, viene chiamato l'Aroma Touch, e viene fatto invece solo nella schiena e nella pianta dei piedi, quindi è una tecnica, insomma, gli oli sono eccezionali per andare a riequilibrare. Qui abbiamo invece l'uso della penna, la cromoterapia. La cromoterapia, ecco, ugualmente, è l'uso del colore per aiutare a riequilibrare i nostri centri energetici. Quindi studiati proprio, ecco, ogni chakra ha un suo preciso colore, quindi con questa penna particolare... Cioè, fai proprio un segno colorato? No, 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 io non tocco neanche la parte della persona, come vedi è proprio una penna luminosa che poi comanda la vibrazione del colore e questo aiuta a riequilibrare con i nostri centri energetici. Qui abbiamo poi la radioestesia. La radioestesia è una... anche questa è una tecnica che viene dalla vecchia rabdomanzia, non so se è presente, no? Quello che cercava l'acqua. Bravissimo. Quindi quel legnetto a forma di Y che serviva e si è evoluta in radioestesia. La radioestesia, con l'ausilio di piastrine, come si vede nella mia mano, è un'antenna e c'è un ausilio della piastrina e praticamente serve a togliere tutte le frequenze pesanti che abbiamo intorno, quindi le cosiddette energie non positive. Tutto ciò che ci può, che noi possiamo attingere, prendere dall'esterno, da nostre forme pensiero e che possono, ripeto, appesantire a livello fisico, dare anche forti problemi di mal di testa, ma proprio problemi fisici, ma anche emotivi. Quindi la radioestesia... e viene utilizzata sulle persone, ma anche nelle case. Ecco, e questa è l'Aurasoma, la conosci? L'Aurasoma, ho fatto una foto un po' di tutte le bottigliette che ho in esposizione. Sono bottigliette che servono queste solo per fare la selezione delle bottiglie di Aurasoma. Anche qui Aurasoma è una tecnica che è stata introdotta in Inghilterra e lei era Vicky Wall, Vicky Wall poi era cieca, quindi aveva avuto proprio come una forma di canalizzazione per creare queste bottigliette e anche qui abbiamo l'ausilio del colore, ma c'è tutto anche un procedimento importante, una scelta delle bottiglie per comprendere l'anima dov'è, quindi in quale momento della vita è e su quali elementi andare a lavorare. Ripeto, vado veloce perché... Qui invece è un macchinario che si chiama Digitoscopia e questa macchina sinceramente non ce l'ha nessuno, forse hanno dei similari qui nelle Marche, in zona. La Digitoscopia serve a rilevare l'aura della persona. L'aura, quindi è la parte energetica che noi non vediamo, che è all'interno, fuori del nostro corpo, circonda il nostro corpo e viene fatta una foto, quindi dell'aura, attraverso le mani e da quello io posso vedere tutto quello che sono squilibri che ha la persona a livello fisico, emotivo, su quello andare a lavorare attraverso appunto delle tecniche specifiche. Conorco, conosco. Quindi ecco, è anche quella una cosa molto particolare e la foto del Laura, che poi era stata studiata da due coniugi, che erano due fotografi, accidentalmente, perché non avevano pensato di fare una cosa del genere, avevano messo al contrario in una macchina fotografica un dispositivo e la foto è venuta dove la persona era circondata da questa parte energetica e da lì hanno compreso, hanno studiato che siamo anche quello. Vedi? Se erano più superficiali, buttavano via tutto. Esatto, invece hanno creato, quindi... Allora, due cose, perché siamo già quasi in chiusura. Un saluto alla tua amica, bisogna che lo facciamo. Certo, esatto. Perché praticamente è diventata protagonista di questa puntata, per cui citiamola e salutiamola. La mia carissima amica Francesca, che per me è come una sorella, quindi veramente siamo... e poi è la zia di mio figlio, quindi è la madrina, è una della madrina di mio figlio, quindi è una carissima amica. Grazie. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, ma qui proprio brevemente, poi dopo diamo anche le coordinate per trovarti, perché dopo aver detto tutto questo, bisogna che... è questa, no? Tu ci hai fatto vedere diverse tecniche, sono parecchie e le abbiamo viste. Immagino che ci saranno un numero spropositato. Come fai a sceglierne una piuttosto che l'altra? Ti convince di più? Perché fai una scelta alternativa e ti focalizzi solo su alcune? Allora, ci sono delle persone che vengono appositamente per chiedermi quella tecnica, quindi che ne so, mi dicono, ho visto che lei è Master Reiki, quindi posso venire a fare il trattamento di Reiki e quindi vado direttamente. Altrimenti parto con un... innanzitutto c'è sempre un dialogo di conoscenza della persona, vedo dove è la persona, a quel punto vado prevalentemente sul sentire dove è, quindi faccio con la faccia comunque stendere sul lettino e cerco utilizzando, che sia il Reiki, che siano altre cose, di sentire, perché uno dice cosa senti? È lì. Sento, perché arrivano delle vibrazioni e nel tempo, ormai sono quasi 20 anni, 15 anni, 15 tutti sicuro che faccio lavori olistici, impari ad affinare proprio la... senti la persona anche se non parla e vado e provo a capire quale tecnica potrebbe essere la più, anche perché sulla base della ricettività della persona, perché per alcuni può andare bene il Reiki, per altri può andare bene gli oli essenziali, quindi a seconda di quello che richiama la persona. Chiara, diamo le coordinate per trovarti, perché a questo punto abbiamo fatto questa... io mi immagino qualcuno a casa sa, sì, ho capito, ma allora come faccio per trovarla? Dove la cerco? Dove ti cerco? Allora, mi può trovare sicuro... Io ho un sito, quindi ho il sito che è ilsentierodellanimatuttoattaccato.com, ho una pagina Facebook che si chiama dottoressa Chiara Lodovici, Associazione Il Sentiero dell'Anima, e poi ci sono, vabbè, i contatti chiaramente telefonici, il mio numero di telefono che è 329-10-56013, e poi c'è anche l'indirizzo mail, se uno mi vuole scrivere, che è tutto minuscolo, è chiara.lodovici.me.com. Questo me ti ritorna qualcosa? Si ritorna perché era ed è ancora l'indirizzo legato a Apple e a tutto quel mondo lì. Esatto, a tutto quel mondo lì. Esatto, esatto. Va bene. Abbiamo detto tanto, poi io sono rimasto con la curiosità di capire come tu hai fatto la scelta di quali tecniche usare, questa la scopriremo in una prossima puntata e andremo avanti in questo piccolo percorso che stiamo portando avanti con questi appuntamenti. Come vedete, la cosa che mi piace di più è che sono tutte cose non invasive, non ti toccano nemmeno quasi, per cui proprio così non puoi pungere neanche per sogno. No, no, assolutamente. Va bene, va bene. Chiara, io ti ringrazio ancora una volta. Grazie tante a te, veramente. E ne approfittiamo per fare, io voglio fare gli auguri a tutti quanti. Come no, la telecamera è tua. Ecco, quindi ci tengo particolarmente ad augurare delle serene feste il più possibile, ma che soprattutto ci sia la serenità nei nostri cuori e un anno a venire molto molto più radioso, ma che comunque, ecco, l'importante è che ci sia l'amore, la pace e la gioia nei nostri cuori, questo sicuramente. Grazie, ovviamente, con il traccambio a te, a tutta la tua famiglia. E a questo punto andiamo in pubblicità, poi torniamo tra pochi minuti con Luca Pieri, presidente Aspes. Grazie Chiara. Grazie a te. Ed eccoci di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria, l'abbiamo già annunciato e lo riannunciamo, è con noi oggi il presidente Aspes, Luca Pieri. Buongiorno Luca, ciao. Buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti. Allora. Se posso tolgo la mascherina visto che siamo distanziati, siamo tutti giusti, quindi facciamo questo passaggio che ormai è diventato parte di noi. Guarda, lo consideravo proprio stamattina, uscendo di casa, stavo proprio facendo questa considerazione, nei film di fantascienza qualcosa, no? Blade Runner 2046, allora vedi questi che per uscire di casa devono mettere la maschera magari con i filtri per la polvere e le cose, credo che mai un anno esatto fa ci saremmo immaginati di ritrovarci con la mascherina come appendice essenziale, come necessità assoluta prima di uscire di casa, mai ci avremmo pensato. Per me che porto gli occhiali da quando sono nato è diventato ormai automatico la mattina infilare gli occhiali e poi mettere la mascherina. C'era quella bella vignetta della difficoltà di chi come me e come te porta gli occhiali che praticamente se sta senza vede poco perché chiaramente se li mette si appannano per cui è... adesso ho trovato anche il giusto equilibrio ho imparato quasi bene quindi non ci vuole molto a... Allora, Luca Pieri è nato il 30 marzo è del segno della riete e io voglio dare un'occhiata a cosa dice il mio librone personologi devi sapere che ogni tanto la facciamo questa cosa di guardare il librone il 30 marzo è il giorno della visione senza compromessi e i nati il 30 marzo sono sempre molto rivolti all'esterno e raramente sanno mitigare gli effetti che hanno sugli altri per questo motivo la loro fortissima voglia di riuscire in ciò che si sono prefissi fa nascere spesso ostacoli antagonismi ti ci ritrovi? Mi ritrovo nella prima parte eh questo libro rivela... Nella prima parte mi ritrovo molto la seconda questa degli antagonismi sì anche se è vero che sono un uomo di squadra alla fine sono un uomo molto di squadra certo e dopo va avanti ma non ci fermiamo su quello è nato Warren Beatty forse lo sapevi no Eric Clapton anche Vincent Van Gogh questo magari Van Gogh lo sapevo e Paul Verlaine pregi comunicatore di forza energico e sognatore beh i tre pregi questi sono forti i difetti li vuoi? certo stressato isolato ribelle ribelle un po' mi ricordo eh? rivelle qualcosa diciamo che ci prende il bello di quei libri sarebbe interessante leggere tutti perché poi ti riprendi ti ritrovi quasi se sbagli il giorno ci prendi lo stesso probabilmente è quello molto bene niente abbiamo scherzato naturalmente con Luca Pieri anche perché ce lo possiamo permettere c'è un rapporto di conoscenza antico direi per cui insomma possiamo divertirci a giocare un po' ma lui è è il presidente Aspes per cui ritorniamo a fare le persone serie e Aspes come sapete si occupa di tante cose e di alcune oggi approfondiremo di altre meno anche perché insomma magari ci interessa meno adesso per intenderci parlare di cimiteri non ne parliamo voglio dire però di farmacie sì perché di farmacie è un po' uno dei temi caldi adesso diciamo che è uno dei momenti in cui si guarda la farmacia come il posto dove comunque andare ad approvvigionarsi qualche mese fa qualche problemino un po' più grosso sulle farmacie c'era perché qualche mese fa venivano additate come il posto invece dove non si trovavano le cose essenziali no? ma diciamo no non è proprio così cioè dove magari la gente cercava di trovare delle cose e non le trovava c'è stato un momento nel marzo-aprile in cui i dispositivi di protezione individuale non si trovavano da nessuna parte l'offerta era di mille volte inferiore alla domanda e quindi era impossibile trovare considerate che i dispositivi di protezione individuale parliamo di mascherine le mascherine chirurgiche ormai no all'epoca si producevano solo in due o tre paesi del mondo insomma per cui non c'era e se ne produceva noi mi ricordo le pagavamo sei, sette centesimi otto quando andava male poi c'è stato un momento in cui la richiesta era talmente alta dietro lo scoppio della pandemia dell'epidemia e è successo di tutto quindi non si trovavano non è che non si trovavano a Pesaro o non si trovavano anzi a Pesaro si trovavano non si trovavano in nessuna parte del mondo insomma era molto molto difficile chi ha tentato come noi in più occasioni di importarle da paesi soprattutto dell'est asiatico si è trovato con le frontiere bloccate perché poi venivano sequestrate nel paese di partenza perché servivano anche al paese di partenza ma non solo non solo mascherine ma diciamo i guanti i camici monouso per gli ospedali diciamo questo noi a Pesaro parlo delle farmacie comunali in quel periodo grazie alla capacità di far rete di tutte le farmacie comunali che poi avevano base a Pesaro in senso proprio quasi nazionale la rete di Assofarm che è l'associazione che rappresenta di cui sono vicepresidente nazionale siamo riusciti a fare squadra abbiamo trovato migliaia centinaia di migliaia se non milioni di mascherine insomma per cui diciamo che nonostante la difficoltà dei primi giorni poi da noi bene o male questi dispositivi si trovavano e poi si è arrivati alla normalizzazione perché poi in tanti sono riconvertite molte aziende che erano chiuse dietro il lockdown si sono convertite chi faceva camicia si è messo a fare mascherine perché poi tutti i DPCM hanno permesso di poter anche fare questo tipo di lavoro però la pandemia ha messo in evidenza una cosa molto in positivo rispetto al sistema farmacia generale io parlo sempre di farmacie comunali ma al di là di qualche differenza insomma che noi siamo sul mercato perché dobbiamo competere sul mercato sul mercato diciamo del farmaco abbiamo delle finalità sociali siamo nati con quello quindi rispetto alle farmacie private qualche differenza l'abbiamo però tutto il sistema farmacia anche le private sotto la pandemia hanno avuto un riconoscimento che prima si faticava ad avere cioè che fanno parte in modo reale e concreto del sistema sanitario nazionale cioè io non so se provate a tornare indietro di qualche mese marzo aprile gli ospedali erano irraggiungibili pronto soccorso meno che meno i medici di medicina generale avevano tutti gli ambulatori chiusi o perché erano stati contagiati loro stessi o perché la difficoltà del contagio l'unico modo per poter parlare della propria salute extra anche covid ma extra anche extra covid era entrare nella farmacia a Pesaro le farmacie comunali non hanno mai chiuso un giorno hanno sempre lavorato battenti aperti è vero che i nostri dipendenti erano messi in sicurezza rispetto a tutto il resto però diciamo che c'è stato questo riconoscimento che tuttora rimane proprio di di punto primo punto diciamo con cui il cittadino ha a che fare dal punto di vista sanitario del nostro paese e questa è una cosa molto importante perché poi i farmacisti sono dei professionisti che sono formati vengono fuori però prima diciamo come è stato questo proprio a livello personale la curiosità tu hai un'esperienza di amministrazione locale e poi anche la presidenza Aspes comunque è una presidenza che nasce per gestire una partecipata a livello lo stesso locale anche con grandi interazioni l'associazione eccetera com'è stato essere catapultati in una dimensione mondiale non solo subendo ma anche dovendo interagire nel mondo appunto la ricerca delle mascherine cioè interagire con chi si muove direttamente su un mercato mondiale com'è stata è stato difficile ma anche in alcuni momenti molto interessante non vorrei usare la parola esaltante visto il momento che si sta però insomma ci sono stati dei momenti in cui la capacità come ho detto prima di fare rete di non isolarsi o auto isolarsi rispetto a quelli che sono gli altri soggetti per cui noi la rete delle 1600 farmacie comunali italiane ci siamo messi in campo chi aveva un canale perseguiva il canale chi ne aveva un altro alla fine grosso modo faccio ragionamento su Pesaro se non vado errato abbiamo movimentato due milioni e passa le mascherine cioè ci sono stati dei momenti che avevamo mascherine noi che magari non aveva la protezione civile ci siamo anche aiutati l'un l'altro proprio perché come dicevo la capacità di fare rete di Assofar ma è riuscita a fare questo e il mio ruolo anche nazionale cioè mi ha proiettato proprio in prima linea sul campo in una situazione estremamente difficile uno l'altra cosa è che noi come gruppo gestiamo 16 farmacie e tutti i giorni c'era proprio stata la scelta fatta a tavolino di girare le 16 farmacie cioè di non lasciare i nostri dipendenti i nostri professionisti soli sul campo ma di farli percepire la vicinanza insomma anche della parte che dirige l'azienda e che fa scelte di gruppo e scelte superiori per cui tutti i giorni tra Riccione Cattolica Gabice Pesaro in vari quartieri di Pesaro per tutto il periodo io il direttore generale Mugito insomma mi ha fatto altro che girare e far percepire la nostra vicinanza e anche la volontà di coinvolgere nelle scelte che ci facevamo i nostri i nostri la situazione adesso com'è? La situazione adesso è nelle farmacie in generale positiva noi stiamo facendo un grande lavoro a supporto come dicevo prima del sistema sanitario nazionale perché in questi giorni su Pesaro sui comuni delle Marche stiamo facendo lo screening sierologico in auto in auto in auto in auto analisi nelle farmacie invece in Emilia Romagna perché poi i sistemi sono regionali quindi ognuno applica scelte di tipo diverso proprio oggi parte il tampone rapido in auto analisi per cui abbiamo un personale che è in evoluzione costante diciamo come ho detto prima che c'è stata un'accelerazione rispetto alla farmacia e servizi che l'epidemia pandemia ha così favorito perché la nostra legge prevede che la farmacia diventi un luogo in cui c'è la presa in carico del paziente post ospedalizzato insomma tutta una serie di cose si possa fare il monitoraggio della terapia per vedere se i farmaci che vengono prescritti post ospedalieri che poi uno si porta avanti quasi tutta la vita hanno un'aderenza terapeutica giusta che il paziente segua diciamo che la diffusione capillare che le farmacie hanno su tutto il territorio nazionale permette e permetterebbe di fare cose che ancora purtroppo non si fanno che le leggi prevedono ma che da qualche anno ma che sono di così lenta applicazione la pandemia paradossalmente ha accelerato comunque voi siete pronti a qualunque necessità la legge vi proponga insomma noi siamo lì ci troviamo anzi molto spesso cerchiamo addirittura di prevenire anche quelle che possono essere le cose proprio perché è la nostra volontà e la volontà dei professionisti io non sono un farmacista ma la volontà dei professionisti della farmacia è proprio quella di essere parte integrante del sistema sanitario Aspers oltre alle farmacie e oltre come abbiamo detto prima ai cimiteri gestisce anche vitri frigo arena mi ricordo come fosse ieri che eravamo in procinto di partecipare al salone dello studente poi è arrivata questa telefonata di sospensione il salone non si può fare eccetera e lì per quanto mi riguarda e per quanto mi riguarda legandomi al discorso della vitri frigo arena è cominciato tutto quanto ovviamente vitri frigo arena la conosciamo tutti è un grande contenitore di eventi sportivi e di eventi anche congressuali culturali musicali cioè un grande contenitore e cosa avete fatto avete chiuso la porta no anzi innanzitutto abbiamo cercato di non perdere gli eventi che erano in programma ma di posticiparli cioè di trovare accordi con i vari produttori per posticipare appena possibile quelli che erano gli eventi che erano in programma ma poi abbiamo fatto due cose che sono secondo me molto importanti la prima è quella di tenere alto proprio il fuoco della programmazione quindi noi stiamo programmando se primavera 2021 come tutti ci auguriamo segnarà la fine della pandemia e quindi la riapertura dei contenitori degli spettacoli c'è tutto un mondo che vive anche sono tanti che vivono di questo quant'altro noi saremo pronti abbiamo una programmazione in calendario che non quella dei tempi migliori di più cioè nel senso che proprio c'è una volontà di ripartenza da parte di tutti da parte del mondo della cultura dello spettacolo dello sport insomma di tutti quelli che possono del turismo cosiddetto turismo d'affari quindi del convention aziendale che lì pronto a ripartire che freme noi abbiamo fatto questa grande programmazione che speriamo di poter attuare in tempi anche molto brevi perché prima ne va della salute di tutti e poi ne va anche della parte economica quello che non mancherà sicuramente è il pubblico non so se hai seguito ieri o l'altro ieri Claudio Trotta Claudio Trotta è il manager che organizza tra tante altre cose i concerti di Springsteen ha postato sul suo profilo personale una foto dove c'è lui che fa così davanti a San Siro che fa così tre e basta è partito tutto un tam tam che è arrivato sui giornali e sui giornali si dà per certo che nel 2022 Springsteen farà tre concerti a San Siro cioè la gente non vede l'ora cioè si inventa qualunque cosa per cui quello che non mancherà è il modo di avere il pubblico è reale in altra istanza abbiamo fatto in modo che l'arena si mettesse a disposizione anche degli obiettivi che tutti tutti ci siamo posti di farla terminare di vincere questa pandemia proprio in queste ore all'interno della vitifrigo si stanno tenendo i tamponi dell'Asur abbiamo dato all'Asur gli spazi perché si stanno facendo i tamponi di massa proprio per cercare di avere il tracciamento più ampio possibile rispetto al covid e quindi si sta facendo questa cosa credo che se non vada errato siano entrati in questi giorni qualche migliaio di persone si vedono le immagini in questo momento proprio per ci siamo messi a disposizione si sta ragionando in questi giorni proprio per la carenza di personale legato di un super concorso legato alla sanità per poter assumere a qualche qualche altra persona insomma io spero centinaia se non migliaia di persone legate al mondo della sanità personale infermialistico e via dicendo è l'arena che ha questi spazi che permettono anche una gestione in questo momento in tutta sicurezza è lì a disposizione insomma di bene allora abbiamo fatto un bel escursus naturalmente ci tenevamo nell'elenco degli ospiti ad averti con noi prima dalla fine dell'anno ma ci rivedremo anche nell'anno nuovo con degli aggiornamenti perché la trasmissione ricordiamo ci sarà anche mercoledì prossimo poi faremo la pausa natalizia ma torneremo l'11 gennaio ci vedremo ancora nell'anno nuovo perché appunto tra le tante cose che segue Aspers c'è anche il verde pubblico e il verde pubblico forse è un tema più da forse primavera no? Sì sì è una cosa anche quella è sempre da gestire però insomma siamo sempre in una programmazione in questo momento dove c'è la pausa vegetativa quindi le piante vanno un rallentamento dal punto di vista vegetativo la crescita vegetativa si fanno le potature che cosa non sono di poco conto quindi avremo modo da qui alla primavera di parlare di parlare anche di questo e di aggiornarci su quelle che sono poi le prossime attività questo libro dei sogni che ogni tanto cerchiamo di aprire su quello che succederà dopo perché ormai diciamo che la nostra testa è decisa a considerare che ci sarà un dopo prendo l'impegno di venire qui ed annunciare non tutto il programma dell'arena una volta che la ripremo ma almeno un qualcosa che possa essere in esclusiva per la vostra televisione che possa in qualche modo scaldare i cuori dei tanti telespettatori molto bene allora ringraziamo Luca Pieri andiamo con il nostro video musicale con la dedica che ci porta Allegra che è arrivata voi direte arriva tutti i giovani arriva tutti i giovani la dedica buongiorno Casa Rossini volevo augurare buon sostizio d'inverno a tutti i telespettatori a dedicare questa frase in inverno ci si aggomitola intorno a un buon libro e si sogna tenendo lontano il freddo questa frase è di Ben Aronovic Rossella da Pesaro ce la manda e poi noi salutiamo Lucia Gianmarco Stefano Sara e tutte le persone che ci stanno guardando in diretta Facebook perché ricordiamo appunto che Casa Rossini è in diretta sul canale 633 del Digitale Terrestre ma anche sulla pagina Facebook e sul sito www.rossinitv.it in streaming e a questo punto la dedica è sulla canzone Jingle Bell Rock che è una canzone tradizionale natalizia rivisitata con un video geniale devo dire la verità da Achille Lauro e Anna Lisa ci vediamo dopo la canzone e dopo la canzone dedicata con Carlo Pagnini avevo ragione che è un bel video naturalmente quando scegliamo le canzoni per le dediche le scegliamo anche sulla base del video perché noi siamo una televisione e di conseguenza non ci basta far ascoltare solo la musica allora siamo tornati siamo ancora in diretta Casa Rossini contatti li vedete 351 708 9977 Casa Rossini chiocciolarossinitv.it se volete interagire e fare qualche domanda all'ospite che conclude la puntata di oggi che è Carlo Pagnini ciao buongiorno 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 a te a tutto lo staff qui e agli ascoltatori a quelli che ci vedono quelli che ci seguono da casa allora con Carlo Pagnini naturalmente noi siamo qua per ascoltare qualche perla di saggezza dialettale ma prima come si fa con quelli con cui ho confidenza sono andato a cercare qualche foto perché dovete sapere che Carlo Pagnini ha un sito una pagina facebook molto attiva personale molto attiva e pubblica parecchio diciamo ce l'ho tutti i giorni cose va allora da lì sono andato ad attingere proprio come farebbe un qualunque fan e ho trovato un po' di foto vediamole Andrea dalla regia perché ecco questa è sto andando un po' a ritroso questa è l'ultima è l'ultima cosa successa qualche giorno fa col conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli il conferimento del premio Raffaello all'Alexander Museum Palace Hotel proprio pochissimi giorni fa un bel premio insomma un'affermazione di cui essere molto orgogliosi le presento io le foto poi vediamo la prossima vediamo che cosa abbiamo scelto qui invece siamo quest'anno a febbraio e vedete siamo in via Castelfidardo via Castelfidardo ne parlavamo anche qualche giorno fa con la Silvana della Fornace di Confartigianato è la via degli artigiani ma è anche la via sulla quale ci sono le luminarie con due poesie una è di Pasqualone l'altra è appunto di Carlo Pagnini e qui questa è una foto di famiglia scattata proprio il giorno dell'accensione di questa luminaria di cui andiamo naturalmente molto orgogliosi e poi è qui il laureato questo è un'altra delle nostre piccole follie la laurea o meglio in dialetto la laura che abbiamo conferito grazie ad Unilit a Pasqualone nel 2018 con tutta una sessione che è stata portata avanti in teatro per cui al teatro sperimentale per appunto dare questo conferimento della laurea a Odoardo Giansanti detto Pasqualone che ovviamente non potendo ritirarla in persona l'ha ritirata per interposta persona attraverso la figura rappresentativa di Carlo e poi ce ne sono un altro paio questa questa è una piccola follia è un saluto è una foto non è molto diverso è molto diverso da come sei adesso in studio però è una foto fatta apposta per divertire i suoi seguaci quelli che appunto su Facebook tutte le mattine ricevono il suo buongiorno e poi in base a quello reagiscono commentando eccetera e ovviamente questo innesca un meccanismo virtuoso di voglia di divertire e poi ancora ce ne dovrebbe essere un'altra e qui invece siamo nell'ambito della serietà questi sono molti 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 anni fa perché ricordiamo Carlo Pagnini è nato il 14 luglio del 1928 e qui sarà stato il 45 più o meno il no tanto con i 15 anni 16 anni più o meno la foto no dillo dillo di che anno poteva essere quella foto lì sì sicuramente prima della guerra prima della guerra quindi 40 40 40 così con gli anni lì Andrea non mi ricordo se c'era qualcos'altro chiedo alla regia non c'era altro bene allora a questo punto possiamo andare avanti ed entrare nel vivo perché ti abbiamo chiamato per avere così per divertirci un po' col dialetto naturalmente e lo facciamo con questa cosa che è stata scelta dai che cosa riguardi sì che l'ho fatta che l'ho fatta 2018 no 2008 diciamo qualche anno bisestile fa sì sì in merito all'anno bisestile siccome c'è la voglia di di dire che quest'anno è un po' disastroso esatto e allora io ho messo sulla credenza popolare certo che poi non escludo la mia certo cioè si dice che l'anno bisestile sia un po' funesto e se questo era in qualche modo da accreditare alla credenza popolare fino al precedente questo qui questo 2020 conferma la teoria questo conferma sì diciamocelo insomma a crederci non so se vale la pena però insomma che quest'anno non sia andato proprio benissimo possiamo confermarlo e allora proprio a sottolineare questo in dialetto ambisest anfunest tra l'altro si dice perché bisestile si dice bisest ambisest anfunest e su questo ascoltiamoci dai si se al proverbi di ambisest si dice che chi si la cheva è l'est questo per un superstizioso ha di poco le disastrosi basta un niente per fai entra in ball corne rocce fer da cavall castagno secco pezzi di corai amuletti fetici spegni dai streghi sparvengoli animali che fai capone nella pelle senza dire che c'è il mister che si sprigiona dai gattner rai tarantoli raganelli corve cvet guff pipistrelle filtre magiche pastroite per guastefature maloi tant che ci vuoi più di un scongiore per combattere certi paure che le farmane senza fied sbalordite terrorizzate se posso smettere febbraire più bugiare di un marinare che c'è fuoco c'è storciose scaricando la guasta d'osso c'è la nebbia che carregge tutte le notti fin quanto alveggia in più e il bufa e il gelo e il piove e là il giorno 29 beh se avrei proprio se avrei pauroso sono anche a me mostre fare il strabacuc che è un bel trucco per fare queste basse a cuvioni soprattutto ma i creduloni forse le è le grandi sciapelle le girie eliminate e se questa filosofia si può anche ridere della magia e ancora più di giorni caff le credenze le può fare un baff però delle volte questa sicurezza lei ha qualche debolezza dunque a me è un'ipocrisia tu che es per scaramanzia questo è il dico perché c'è sted di momento che non ciò trovare la te contro la spiga che è buono ad mettere in riga senza tanti complimenti soprattutto ma chi non crede niente anzi se mi posso permettere da cantare la propria schietta dato che ciò troviamo che a potrei approfittare d'arcuntè papè papè una storia personale che a dir vera la riguarda una vicenda un po' bastarda armanente sempre ottimista e tentando a fare il coronista hai pronta una storia e un bel gloria d'arcuntela dunque l'era un mercoledè proprio il giorno 23 un di cap del mese di gener si può dire che sia un mistero molti la considerano più tondo e fortunato ma me invece senza motiv tra le forme più aggresive ma chi ha pedo un mel de pansa da giit corse in ambulanza che i ragazzi del cent di dot presa poc vers mezanot ardo d'gveggi in agonia e m'vedego un pet bugia dot pa sed al prun so corse senza fet antidiscorse il dottor che le rasservisi sicuro fosse stato un stravisi fatto a tavola sei parenti quando si ingossa da incosciente ogni sorta di pietanza non salvando neanche l'arvanza tranne l'ultimo l'anno che usò un bel po' di malanno lei è fortunato potrà essere operato e sarà conveniente se lo fai immediatamente polca sozza è lì davvero e sarà un po' troppo severo forse toccare a fe prest perché siamo in l'ambis est guardi non tergiversiamo qui ripeto noi dobbiamo immediatamente agire altrimenti può morire non è semplice colite questa è una pancreatite cistifele allarmante che può esplodere all'istante se succede sono guai da non augurarsi mai al più acerrimo nemico questo è un male molto antico che oggi giorno si debella asportando le budella la fischia e mi dice niente tu te mi sei parente stia tranquillo non è niente siamo gente competente con tre buchi nella pancia non buttati lì alla ciancia se va liscio e non si aggrava in tre mesi se la cava a a ste punt che è da di ste ma vede con va flì in barella i m'a portet i mutilet sa na certa discrezione io fac t'observazione ma perché in ortopedia an adet in chirurgia l'infermire e m'a risposta stai si ti m'a in c'è il post per adesso smette ma che dopo tornerò a chi a pe se la flebo a spindolone in tappanza il bolerone passere la prima notte la mattina era cazzo una volta in tel repart tra chi arriva e tra chi parte sta sasti disgraziati in mostra gira i let come una giostra mentre intorno il personale di poc eccezionale tra chi giovane è più grandino frullano più che nei zule tutti i giorni verso le sei senza chi sfermasse mai termometri misura subito la temperatura intorno braccio spindolone e controlla la pressione tel frattem c'è inserviente chi pulisce i pavimenti cambra bagni e corridori sempre stupide sudori porte finestre comodei i arfailletti gambi coscien e ogni tanto in l'intervallo c'è padele papagalli da giato e portavì se uno d'oro classe racia subito dopo il professor se una sfizia di dottore controlla tutte le carte e poi chiama da una parte e decide cosa da fare due parole senza fare tanta lunga prima che qualcuno proponga da gambi una terapia e sar volta e arrivare via sac la specie di pur ci su perché lo non è un bagajun dop di questo dottore infermire mascheret e armin ce l'gir tun carell can ne me izvoj i a i un guent par lemuroid i cerot garze cutum le shiring i panulun e na sfizat medicin sa ogni sorta de velin na cat herva de pastic par i gras e par i sec i bevron le perret no di dentro in un cascetto per fortuna c'è un momento ogni tanto che per stai contento la classione il pranzo la cena a metà sera e mattina una camomella un tè l'orz una tassa di caffè dopo tutto questo finisce tutto in gloria in tassare l'operatoria e ma le avver dirò chi ne salva un gran bel po perché allora si dice qua e là solo la mala sanità il dottor gli declarassi che te salvai la massa guari sempre a ne be secol e ti aiuta e fai miracoli se pudesse non fai i guai loro moriria mai se ti guerris però vengono in mente da fare qualche ringraziamento ma me quanto mi so messe in pochi tempi ma di messe adesso in convalescenza salami santa pacienza in attesa d'archiapè pian pian miglioré a chiud gli occhi e aveva dintorno tutta la gente che notte e giorni la mi aiuta a superare i moment più brut che c'è passa un più bel declatra come artiste in un teatro ben vestito pulito raggiante sorridente pronte scattante sopportando serenamente criticando e maldicendo fino in tanto che possa vedere visto che mi lasciò che vede e continuare a ringraziare e se avrei da ricordare che questa gente pare onesta l'ha combattuto il plan viseste questa è una testimonianza vera tra l'altro posso confermare che però è sempre attuale anche se sono passati un po' di anni e sicuramente è sempre attuale perché la descrizione che te fai dell'ambito ospedaliero adesso è ancora più stringente perché ovviamente lì si parlava di un'operazione e adesso invece si parla di qualcosa di diverso e più generalizzato e è volato il tempo anche questa volta per cui non c'è modo e non c'è tempo di aggiungere anche quella cosa che avevamo tenuto di emergenza però io quello che volevo dire è questo sono sicuro che i nostri telespettatori hanno seguito tutto e sono sicuro che tra loro in tanti sono riusciti a seguire tutto quello che hai detto ma anche i più bravi anche quelli che sanno bene il dialetto o pensano di saperlo anche quelli più esperti secondo me non sanno cosa sono i giorni caf i giorni caf i giorni caf sono i giorni dispari è per quello che ero sicuro di lanciare la sfida a qualcuno che non lo sa non solo i giorni tutto quello che è dispari è caf tutto se te hai qualche cosa che è solo è caf ah beh cioè se è unico è caf cioè se è spaiato è caf però caf vuol dire anche dispari per cui se uno si estrae la tombola per dire sì 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 i giorni caf i giorni caf ecco vedi avete imparato qualcosa segnatevelo perché poi chissà che un giorno non ci decideremo a fare una specie di corso di dialetto o meglio così un'esplorazione nell'ambito del dialetto per divertirci con Carlo Pagnini che ne sa veramente tante e che ogni tanto anche inadvertitamente senza accorgersi le infila nelle sue composizioni e va così sì perché che per me sono naturali esatto e quello è quello il bello io ho parlato in quel modo lì è quello il bello vuoi approfittare per fare gli auguri ai nostri telespettatori prima di andare perché è già finito il tempo eh auguri a tutti in che modo in che modo se siate tranquilli io ho 92 anni e lo sapete tutti perché non lo nascondo a nessuno non ho trovato mai il giorno prima ma migliore del giorno dopo quindi quando ero piccolo vivevo come adesso vediamo pubblicizzata la miseria in giro per il mondo e noi eravamo in quelle condizioni lì senza l'acqua corrente senza la luce perché mia madre non poteva pagare le bollette quindi si viveva con la candela in condominio con topi ragni scarafaggi di ogni genere e tutto il resto rispetto a quegli anni lì insomma stiamo vedendo avevamo solo una stanza solo una stanza alla sala diciamo dove si mangiava dove si faceva tutto aveva il pavimento se no le altre stanze le erano salpiacite cioè allora l'augurio è a non dimenticare da dove siamo arrivati anche quelli che sono nati dopo molto dopo non dimenticate non dimentichiamo da dove siamo arrivati e godiamoci quello che abbiamo andiamo avanti sì anche perché a me non si rompeva mai il computer il televisore esatto e il telefono sicuramente no non c'era niente sicuramente no va bene allora è stato con noi e ci ha fatto gli auguri e ci ha anche raccontato questa vicenda dell'anno business stile Carlo Pagnini prima di lui Luca Pieri presidente Aspes prima ancora Chiara Lodovici presidente dell'Associazione Culturale di Sentiero dell'Anima per questa puntata del 21 di dicembre primo giorno d'inverno e sostizio d'inverno ringraziamo tutti per essere stati con noi l'appuntamento è per le repliche che ricordiamo sono alle 16 e alle 22 di oggi e alle 15 e 15 di domani e poi per la prossima puntata quella del 23 che sarà la puntata che conclude questa prima fase di Casa Rossini prima di una pausa natalizia e poi ritorneremo insieme l'11 gennaio grazie ancora restate comunque sempre incollatissimi agli schermi di Rossini TV perché come dico ogni tanto ne vedrete delle belle grazie buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti